Buonasera intanto. Prima diciamo di approfondire il tema mi piacerebbe presentare gli altri due ospiti che ci hanno fatto la gentilezza di essere presente in questo primo incontro. Il professor Fabio Papa che è docente di economia aziendale e di economia del made in Italy è un docente di start up e sport business presso il corso di specializzazione e master organizzati dal Sole 24 Ore e diciamo che come posso dire recentemente facendo il verso a una datata pubblicità della Barilla la famosa dove c'è Barilla c'è casa io ho detto dove ci vuole un minimo di vision e follia positiva c'è il Papa. Credo che non devo aggiungere altro per introdurlo e credo che l'argomento trattato lo veda coinvolta già da tempo professionalmente e prima di fargli una domanda volevo anche presentare eh il dottor Renzo Isler eh Renzo Isler è già amministratore delegato del della generale China Life eh dal duemilacinque al duemilasedici ha lavorato per il gruppo generali eh per quarant'anni girando il mondo Austria Stati Uniti Iran Grecia eh Svizzera Francia oltre ovviamente all'Italia e oltre ad essere un testino doc dal duemilasedici è stato senior consulta per la per la Cina in generali e dal primo ottobre duemilaventi è direttore del Eusme Center di Pechino e inoltre direi e mi dilungo eh per per giusti motivi ehm è e inoltre il presidente della USTN Triestina Nuoto società di nuoto ultracentenaria ormai nuotatore paola notista è stata una delle prime persone diciamo eh che eh mi ha parlato delle criptovalute ormai molti anni fa e eh quale direttore del Eusme Center eh diciamo di Pechino ha sensibilizzato eh ed analizzato le possibilità di crescita della tecnologia blockchain nel mondo ed è stato relatore in convegni internazionali su una materia ed è ovviamente non solo per curriculum un uomo di mondo ma non nella nell'eccezione celebre di Totò eh che diceva che era un uomo di mondo chi faceva tre anni di militare a Cuneo ma nel senso letterale della parola ecco eh questi eh due eh diciamo amici oltre che eh stimatissimi professionisti mi sembravano eh assolutamente eh necessari in questo nostro primo incontro. Ne approfitto per fare una prima domanda al dottor Papa eh perché eh abbiamo parlato eh prima di NFT, Aston Martin, Fan Token che possiamo possiamo diciamo considerare i grandi players no? quello che ti chiedo invece è come vedi il mondo delle start up sportive da qui eh a cinque anni in questo campo o meglio forse dovrei dire da qui a sei mesi perché per come corre velocemente eh diciamo il mondo eh di di cui discutiamo oggi ovviamente i tempi si restringono molto e quindi ti chiedo come pensi che che tipo di eh opportunità secondo te ci saranno per i giovani e per coloro che vogliono iniziare un'attività, un progetto dal basso sfruttando questa tecnologia e questo nuovo posto. Buonasera, grazie per l'invito e per l'introduzione. Buonasera a tutti. Eh risposta che cosa vedo da qui ai prossimi mesi bar anni? Beh allora per le start up italiane ma anche diciamo in generale per per le aziende e per chi vuole fare eh impresa. Quello che vedo innanzitutto che bisogna avere la voglia di di farlo davvero no? Perché va molto di moda in Italia ma non solo nel mondo parlare di start up però sapete benissimo che un conto avere un'idea imprenditoriale poi un conto è saperla mettere insomma a terra e portarla a regime e ci vogliono almeno 60 mesi per fare questa cosa che utilizziamo o non utilizziamo tecnologie tra virgolette innovative no? Come per esempio potrebbe essere quella della blockchain. Quindi il primo tema a tutti quelli che amano fare impresa o vorrebbero fare impresa no? Il primo tema da snocciolare siamo diciamo consapevoli di cosa voglia dire fare impresa no? Non è facile no? Come dico spesso ai miei studenti fare impresa è un'impresa no? Un conto è fare il manager, un conto è fare il professionista, un conto è creare ex novo un'azienda. È molto difficile. Io ho avuto la felice idea di farlo due volte e se mi avessero spiegato come era fare impresa nonostante io insegni economia non so se l'avrei fatto ok? Quindi questo giusto per farvi capire quanto è un conto è parlare di azienda, un conto è fare impresa e vi assicuro che sono due cose completamente diverse. Seconda risposta rapidissima anche un po' provocatoria ma perché tutti parliamo di criptovalute e parliamo di tutte queste bellissime novità? Beh anche nel mondo sportivo. La risposta è che le aziende si devono inventare nel mondo sportivo ma non solo delle nuove modalità con cui creare valore perché purtroppo se andiamo a vedere i bilanci delle aziende sportive non solo delle start up ma le aziende sportive in generale quelle che non sanno gestire sono messe veramente male. Il covid ha amplificato purtroppo in maniera drammatica l'insostenibilità dei bilanci delle aziende non parlo solo di quelle famose ma anche di aziende meno famose e questo ha portato chiaramente al volersi affacciare a nuove opportunità di business tra cui quelle legate al tema della blockchain dei big data in generale della digitalizzazione. Dico spesso questa battuta lezione cioè sembra un po' come quasi una coppia che ha dei problemi e che per risolverli vuole fare un figlio no? E allora dice ok cerchiamo di fare un figlio in questo modo. Io predico sempre il tema della sostenibilità prima economico patrimoniale finanziaria strategico organizzativa anche per le start up ma non solo per poi affacciarsi eventualmente a nuovi mondi e nuovi modelli di business. Quindi per chiudere io penso che ci siano grandi opportunità per chi ha voglia, per chi è capace in tutto il mondo anche in Italia ma non bisogna farsi illusioni ok? C'è tanto lavoro da fare, bisogna avere competenze e bisogna saper dominare la complessità che c'è dietro i fenomeni di cui stiamo parlando. Grazie Fabio. Io peraltro ovviamente invito il dottor Isler a intervenire se vuole con una delle sue pennellate ovviamente. Innanzitutto ringrazio Francesco per questo invito che ho preso con grosso entusiasmo perché la cosa è una cosa, cioè tutto il fenomeno delle blockchain è un qualcosa in continuo divenire. Cioè fino a un anno fa di queste cose non si parlava. Adesso si parla non solo di criptovalute perché solamente una delle branche che poi sono state il motore che ha creato, cioè la generazione della blockchain poi è stata fatta perché c'era bisogno di dare spazio a Bitcoin. Però le applicazioni poi della tecnologia del blockchain sono immense. Il fatto adesso di questo non fungible tokens, questo NFT, è una, direi che è una piccola fetta di quelle che sono le possibilità che la tecnologia dà. Ed è una fetta estremamente interessante però anche molto pericolosa. Pericolosa perché può portare a dei grondissimi entusiasmi per facile raggiungimento di liquidità, quindi di entrate finanziarie economiche per chi poi li mette in vendita. Però poi bisogna capire quali sono i risvolti per voi soprattutto che fate gli avvocati, quelli di legali che stanno dietro a questa cosa qui. Il boom che è venuto fuori di questo NFT è stato lanciato da People, quindi questa vendita straordinaria di questa sua collezione di fotografie che è stata lanciata da Cristi. 69 milioni di dollari in una asta per un pezzo di fotografia, cioè di una collezione di fotografie è certamente una cosa che fa impressione. Però alla fine della fiera nel calcio mi sembrava, quando parlavate adesso, mi sembrava di pensare, di ritornare indietro alle figurine Panini, dove c'erano le fotografie dei calciatori e uno andava a comprarsene in negozio. Quindi nell'NFT viene venduta cosa? Viene venduta l'immagine del giocatore? Vengono vendute spezzoni di gol, di cose fatte? Perché questo è quello che succede nella NBA americana, dove già da parecchio tempo i grandi giocatori si stanno arricchendo personalmente nella vendita, dal lancio di queste aste di NFT. Quindi il discorso è, NFT chi ne è proprietario? Cioè il fatto che ci sia l'immagine di un giocatore di calcio che in questo momento porta alla casacca di una determinata società, chi è il proprietario? È l'individuo? È il giocatore? È la società? Chi ne guadagna da questa vendita? Poi una volta venduto l'NFT è il proprietario che ha vinto l'asta, che è proprietario poi di questo token, a sua volta poi immagino che possa incominciare a fare un commercio di questo. Quindi a sua volta poi lo mette magari di nuovo in vendita per cercare di lucrare sulla cosa, perché poi alla fine di soldi parliamo. E di questo poi c'è il discorso di mezzo, c'è il discorso della tassazione, cioè esiste un reddito che deriva dalla compravendita di questi NFT o rimangono tutti quanti sotto braccia. Quindi ci sono tantissime cose che dal mio punto di vista devono essere ancora sviscerate e capite che siamo appena appena all'inizio. Quindi questo è il mio brevissimo contributo.